Mille monopattini Elbitz, monopattini elettrici che aiuteranno Roma a ripartire nel segno della sostenibilità ambientale e della mobilità alternativa e sostenibile. Dobbiamo prendere atto del fatto che probabilmente il nostro stile di vita non era adeguato e allora ripartire nel segno della sostenibilità ambientale è una marcia in più che ci consentirà di proteggere le nostre città, la nostra salute, i nostri concittadini e tutti coloro che ricominceranno a venire a Roma. I nostri clienti utilizzano il mezzo per spostamenti più lunghi, fino a 3,3 km più o meno, quindi c'è stato questo incremento del 60% che è un dato molto importante, significa che i romani hanno capito l'importanza dell'utilizzo di questi mezzo. Tutti i nostri utenti della data Roma Telepass Pay potranno godere fino a fine anno di minuti gratuiti del servizio a titolo gratuito di Elbitz e di tutta la micromobilità nelle città in cui sono presenti. Crediamo fermamente che andare a unire micromobilità ai parcheggi di struttura in cui vengono parcheggiare le auto, dove vicino ci possano essere gli snodi da cui parte questa micromobilità sostenibile sia il miglior modo per connettere le smart city. C'è bisogno che le strade diventino più smart, ma c'è anche bisogno che i centri urbani sappiano cooperare con altri sistemi di mobilità.